Musica La classe che vi consiglio è quella senza alcuna arma Magari un coltello ballistico Le specialità sono leggero, prestigiatore E come terza specialità scegliete voi Ecco, io vi consiglio oltre il limite o destrezza La cosa più importante da mettere è almeno un tomo O almeno un combat axe Un accetto da combattimento E se volete un'infiltrazione tattica Ecco, io l'ho messa però essendo di tutti contro tutti Me l'ha tolta in automatico Bene, raggiungete quest'albero Più o meno all'estremità della mappa Il vostro avversario, ecco Dovrà posizionarsi dietro quest'albero Diciamo nella parte Come vedete in questo momento Voi dovrete praticamente accoltellarlo Ed estrarre il tomo E la classica knife lunge Il tomo serve perché nel caso manchiate l'albero Ucciderete il vostro amico Allora per evitare di ucciderlo tutte le volte Utilizzate il tomo Quindi vi mettete nel punto giusto Più o meno come detto in questo video E ad un certo punto riuscite a saltare verso l'alto E ad atterrare su quest'albero Col salto non è molto alto Però potete raggiungere facilmente La chioma Diciamo la parte superiore di quest'albero Quindi ragazzi Il glitch era molto semplice Non serve neanche più di tanto Diciamo perché L'utilità vera e propria Non ne ha Però se volete Anche su Blicop 2 Provare qualche glitch in multiplayer Come si faceva su O meglio in partita privata Come si faceva su un mod ruffer 3 Quindi se il glitch vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Qui T-Black Game Al prossimo video All the things I dream Are steadily coming true So many people to me So many more things to do And I'm enjoying it all I'm trying to take it in In hopes that I reach a dream Before it comes to an end Let's go Take a look at the stars Can reach if you want to Don't be afraid to change Cause the people don't want to Be who you want to Dream if you want to Always be yourself And the people No No No